Musica Martedì 3 gennaio torna l'edicola su TRMH24, lo spazio nel quale leggeremo i principali giornali di oggi. Partiamo subito dalle prime pagine delle testate nazionali, la Repubblica e il Corriere della Sera. Partiamo subito dalla Repubblica che titola in primo piano il gas cala, la bolletta no. Prezzi ai livelli precedenti, l'invasione dell'Ucraina, stime in ribasso fino a marzo. Pesa la diminuzione dei consumi, invece le tariffe per gli utenti aumentano di oltre il 15%. Le riduzioni scatteranno tra mesi e non per tutti. Presidenzialismo, il piano meloni, bicamerale o avanti lo stesso. E poi vediamo una fotonotizia. E ora Francesco resta più libero e solo a San Pietro e migliaia in fila per rendere omaggio a Benedetto XVI. E leggiamo ancora l'intervista. Scola, Ratzinger ha emancipato la chiesa e sconfitto il diavolo. Invece ci spostiamo adesso sulla prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo anche qui una fotonotizia. In 65 mila per il saluto a Benedetto, l'omaggio di Mattarella e Meloni. E poi ancora nuovi indagati a Bruxelles. Si allarga l'inchiesta sulla corruzione. L'Europarlamento è chiamato a votare sul destino dei due politici. Caso Qatar, nel mirino Cozzolino e Tarabella. I magistrati revocare l'immunità. E poi ancora vediamo il sondaggio. Caro vita e crisi. Ora gli italiani vedono il futuro più incerto. Ed ora invece ci spostiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Vediamo anche qui raffica di rincari. Pedaggi, benzine, trasporti, fisco. I modi per mettersi in regola con cartelle e condoni. Exilva verso lo sciopero. E poi anche qui lo vediamo. L'addio a Benedetto XVI con una fotonotizia. A San Pietro, il popolo di Ratzinger. E poi ancora sempre sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Salute, il Covid rallenta. Quarte dosi ferme. L'immunologo bisogna vaccinarsi. Mentre in Puglia è polemica per il dossier di Palese sull'assessorato. E poi ancora vediamo Taglio Basso. Palpeggio ragazza, ora in rianimazione. Colpito con un pugno dal fidanzato. Sabato sera i tre giovani festeggiavano insieme la fine del 2022. Sempre con la Gazzetta del Mezzogiorno. Ci spostiamo sulla prima pagina di quella di Bari e di quella della Basilicata. Partiamo da quella di Bari che titola in primo piano. Conto alla rovescia verso i saldi invernali. Ma in tanti fanno già sconti da giorni. La polemica sul non rispetto delle regole è sollevata da fismo con fessercenti. E poi ancora vediamo. Entro gennaio la nuova bretella salvatraffico. Truffe digitali più via sms che su mail. Tra le altre notizie vediamo che ad Altamura spara contro una casa e picchia un passante. È restato un 26enne. A Molfetta capodanno di botti. Ma i presidi hanno evitato il peggio. E poi ancora leggiamo Taglio Basso. San Cataldo dal faro una rambla sul mare. scoprendo il cantiere di Palazzo Starita. Ci spostiamo sulla prima pagina della Gazzetta della Basilicata che invece titola in primo piano. Niente visite e analisi. Gli ambulatori chiudono. SOS, sanità privata. Buco all'asmo. Viziello. Attacca Pulvirenti. E poi ancora tra le altre notizie. Sempre sulla prima pagina della Gazzetta della Basilicata. Leggiamo Energia. Il rebus del bonus gas. Bollette senza sconti. La Regione. Nuovi investimenti sull'eolico. E poi rincari del carburante. Ecco l'impatto su Matera. Ed ora invece ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno per leggere le notizie legate al nostro territorio. Vediamo in prima pagina. L'emergenza. Senza medici, sanità in ginocchio. Il caso limiti a Brindisi. Mancano i chirurghi. Donne con il cancro rimandate a casa. Il senologo Burlizzi dice. Ci chiedono di trasferire i colleghi al pronto soccorso. Così saltano gli interventi. E poi vediamo una fotonotizia a Lecce. Orfei all'ospedale. Era un pupazzo tra le fauci di Taira. Il domatore ha zannato dalla Tigre al Circo. Ancora a Costa Sud. Partono gli espropri. Il lungomare di Bari inizia a cambiare volto. Riqualificazione finanziata dal PNRR. Ci spostiamo nelle pagine interne del Corriere del Mezzogiorno. Vediamo in primo piano la politica. Emiliano e De Caro. Guerra sotterranea. I due si mandano segnali di minaccia. Il sindaco avverte di candidarsi in Europa. La replica rischia l'isolamento. E poi ancora i cuori scaldati dall'effetto G. Tra Covid e antiputinismo. È sbocciato il popolo di Giorgia. Cozzi spiega perché Meloni ha convinto gli italiani. E la sinistra invece si è smarrita. Ancora vediamo in primo piano la sanità malata. Ho perso un altro chirurgo costretto a mandare via le donne che hanno il tumore. Denuncia sciocca al Perrino. Il senologo Burlizzi. Liste di attesa fino a tre mesi. Ci chiedono di inviare i colleghi al pronto soccorso. Così però saltano gli interventi. Taglio basso. Vediamo ancora. Caus. Ospedali. I medici contro la regione. Intervenga presto il ministro Schillaci. Ordini e sindacati chiedono più fondi per formare e reclutare il personale. Continuiamo ancora a sfogliare il Corriere del Mezzogiorno. L'abbiamo visto in prima pagina. Costa Sud via al primo esproprio. Il parco costiero diventa realtà. Il progetto da Torriammare fino a Iapigia saranno investiti 75 milioni con il PNRR. E poi ancora erba sintetica in spiaggia. L'Amaraschio. Uno scempio. Via da Lama Monachile. L'assessore regionale dell'ambiente contro il comune. E anche questa intervista l'abbiamo vista in prima pagina. Racconto shock di Ivan Orfei. Le altre tigri rimaste ferme. Così sono riuscito a salvarmi. Dall'ospedale parla il domatore assalito durante lo suo al circo. Taira Coccolona. L'abbraccerò come faccio con i miei figli. Ancora taglio basso. Vediamo. A Bari violati i divieti contro i botti. Ma capodanno da record nei musei. Monti sequestra in città. Batteria di fuoco in Viale. Unità d'Italia. Sezione Cultura e Tempo Libero. Sul Corriere del Mezzogiorno leggiamo. Io ho una specie di predicatrice di fondo arte contemporanea. Si chiama Giussi Vena. È nata a Bari. Ha studiato a Brera e poi a Bologna dove vive. Seguitissimi i suoi post pubblicati su TikTok e Instagram. Ancora sempre sul Corriere del Mezzogiorno. Lo sport. Leggiamo Lecce e Bari sulla difensiva. Dalla Roma alla Lazio. Caccia a Yulmanda e Chedira. Scatta il mercato. Parte la corsa ai gioielli dei due club pugliesi. In Salento sbarca Malè. I biancorossi pensano alle uscite. E continuiamo ancora ad interessarci alle notizie del nostro territorio spostandoci su Repubblica Bari. Vediamo. In prima pagina l'intervista. La procura senza mezzi per la riforma Cartavia. Il capo degli uffici giudiziari e gli aggiunti dopo le nuove norme. In difficoltà anche con gli strumenti informatici. L'appello di Rossi con Giannella Maralfa e Coccioli. Ancora vediamo la politica amministrativa e prima intesa fra PD, 5 Stelle e Civiche. E poi ancora vediamo un'altra fotonotizia. I medici ed Emiliano manca il personale. La sanità è a rischio. Sfogliamo le pagine interne di Repubblica Bari. Vediamo. Amministrative. La linea di Emiliano. PD con Movimento 5 Stelle e Civiche. L'accordo è stato siglato per Foggia. Lancia un primo messaggio alla coalizione all'indomani della rottura fra il governatore e il successore Inpectore De Caro. Sullo sfondo anche la trattativa per le comunali a Brindisi. E poi ancora, l'abbiamo visto in prima pagina, l'intervista. Con questa riforma saranno a rischio le nostre indagini sulla criminalità. Rossi e i suoi aggiunti lanciano l'allarme all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove norme. Siamo in difficoltà anche con i mezzi informatici. Ancora le plafoniere d'oro in Regione. È chiesto il processo per due. L'architetto Mirizzi di Conversano e l'ingegner Silo Selabini di Vitonto devono rispondere di truffa e falso per i lavori nella nuova sede in Via Gentile. E poi leggiamo ancora l'inchiesta. Stasi 10.000 euro a casa di uno dei due indagati. Regali di compleanno. I carabinieri hanno trovato anche una pistola a gas. Sembra incompatibile con quella del delitto. Poi vediamo Taglio Basso ancora cronaca. Amico gli sferro un pugno al volto. Grave un ventunenne. L'aggressione avvenuta nell'eccesa la notte di San Silvestro. Ancora sanità a rischio. Allarme dei medici. Palese. Il Governo deve sostenerci. Doppio attacco alla Regione da parte di ordini e sindacati. Sotto accusa la burocrazia che rallenta l'attività negli ambulatori di base e le carenze nei pronto soccorso. L'assessore dice non partecipiamo al calcio mercato. Ancora leggiamo la CGL. Sui vigili del fuoco ci spostiamo nella BAT con Repubblica Bari. Nonostante l'anno nuovo restano i vecchi problemi. L'assegnazione di un'autoscala per il territorio della BAT fra le priorità di questo 2023. E ancora leggiamo l'emergenza col diretti e il caldo anomalo. Mimose sono già fiorite e le produzioni sono crollate. E poi ancora a taglio basso leggiamo c'è l'intesa fra Tecnopoli se Cittadella della Carità più servizi quindi per la città di Taranto. Anche su Repubblica Bari sezione cultura vediamo la lettura. Contro l'omertà in prima linea un no alla mafia. Nel libro Omelia per gli invisibili Don Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo dal 2017 tira le somme delle sue battaglie dalla parte degli ultimi per riaffermare i principi della legalità nel Foggiano. Ancora passiamo allo sport con Repubblica Bari e leggiamo che dire il Toro bussa e il Bari fissa il prezzo. Serviranno 10 milioni. Caccia a un trequartista. La società di Cairo ha offerto 5 milioni e un suo primavera. L'Avellino punta su Antenucci. Ed ora invece continuiamo a leggere le notizie legate al nostro territorio spostandoci sulla prima pagina del quotidiano di Bari. Vediamo anche qui in primo piano carenze di personale drammatiche sta crollando il sistema sanitario. Gli ordini professionali di tutta la regione denunciano le storture che penalizzano solo gli utenti. E poi ancora c'è una verità per i politici regionali e un'altra per quelli comunali. Altro che le gentitecenza tanto sbandierata dal sindaco De Caro. E poi ancora taglio basso vediamo un anno da record e si punta un 2023 migliore a colloquio con Antonio Vasile presidente di aeroporti di Puglia. Ancora ci spostiamo sulla prima pagina dell'edicola del sud di Bari e della Basilicata. Partiamo da quella di Bari. Vediamo ecco il museo sul molo tutto pronto per i lavori. Scatta lo sgombero dell'attività sulla piastra di Sant'Antonio presso il via al cantiere. E poi ancora una fotonotizia all'allarme lanciato dagli ordini professionali anche qui vediamo la sanità sta per crollare. I medici denunciano la carenza di personale. Sulla prima pagina dell'edicola del sud invece dedicata alla Basilicata leggiamo assistenza negata stop ad altre prestazioni. Il caos blocco dell'attività della specialistica ambulatoriale è creditata su tutto il territorio. E tra le altre notizie leggiamo ancora nel Materano i sindaci PD favoriamo il rilancio. Una pubblica illuminazione più efficiente dicono i pentastellati. Ed ora invece come di consueto chiudiamo la nostra rassegna stampa spostandoci sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo in primo piano Patuelli niente rialzi dei tassi a inizio anno la BCE dovrebbe avviare un ripensamento. Ecco l'intervista del presidente dell'ABI in Europa e i prezzi dell'energia sono scesi chi specula scommette sull'imminente amministizio della guerra in Ucraina. E poi ancora vediamo manovra 10 strade per evitare l'IRPEF 2,1 miliardi di sconti. Leggiamo ancora sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore con una fotonotizia allarme prodotti essenziali feder chimica produzioni attese ancora in frenata. E queste sono soltanto alcune delle principali notizie che troverete sui giornali di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ancora a rimanere con noi. Grazie a tutti.